TMB, una delle eccellenze produttive del Polesine. Sì, siamo qui da dieci anni, il primo di giugno è dieci anni che siamo qui, abbiamo fatto tante cose, siamo partiti in quest'area con 300 dipendenti che ci sono aggiunti ai 250 che avevamo nei stabilimenti di Monselice e abbiamo avuto possibilità di una forte crescita sfruttando una parte degli impianti già disponibili dove abbiamo acquisito i processi fusori che ci mancavano nella nostra catena di fornitura e oggi siamo un'agenda verticalizzata capace di fornire dal progetto iniziale del cliente come concetto trasformarlo in fattibilità e realizzarlo con tutti i processi necessari, dalla costruzione degli stampi, alla costruzione poi delle fusioni, i processi di finitura, le lavorazioni meccaniche e fornire al cliente elementi pronti per le linee di montaggio per i settori principali dell'automotive, poi anche delle motociclette e delle motoristiche in particolare per applicazioni su veicoli ricreativi, tipo i quad, i scooter d'acqua, le motoslitte e quelle cose lì e oggi siamo un'azienda di carattere nazionale di prima rilevanza, occupiamo circa poco più di 1000 lavoratori fra i vari stabilimenti che abbiamo, principalmente qui a Ceregnano oltre 700. Cosa significa per la comunità? Benessere perché qui il lavoro è quello che realizza il nostro valore, quindi un valore realizzato che cade a pioggia sul territorio, certo abbiamo anche di grossi investimenti da fare sia in tecnologia, in formazione, in addestramento, però vediamo un grande spirito partecipativo dei lavoratori che partecipano in forma attiva e non in forma passiva solo per lo stipendio, ma per realizzarsi anche nelle possibilità di carriera e di crescita professionale. Abbiamo ottimi rapporti anche con le entità sindacali, dove non abbiamo conflitti, ma abbiamo sempre buoni rapporti e accordi di soddisfazione piena per entrambi, noi, i nostri lavoratori e anche le basi sindacali. E l'anno del Covid come è andato? Allora, è andato, anche noi ci siamo trovati l'anno scorso, inizio primavera, il blocco completo delle attività, poi siamo entrati nelle categorie delle aziende che fornivano le catene primarie e poi per la valenza internazionale dei nostri affari abbiamo avuto possibilità di incominciare in anticipo un processo di riapertura dei stabilimenti. Abbiamo perso complessivamente otto settimane di lavoro, però via via la riapertura, l'accelerazione è stata importante e abbiamo chiuso l'anno con una mini caduta dei volumi d'affari di circa meno del 2%, quindi abbiamo recuperato la grande e adesso stiamo andando avanti ancora con un processo di crescita che quest'anno, se Dio vuole, se le cose continueranno così, per noi sarà un anno migliore della nostra storia. Come vede la ripresa economica del territorio in vista del passaggio del Veneto in zona bianca? Vedo un po' il segnale, vedo un segnale che usciamo finalmente a questa pandemia, vedo il segnale dell'ottimismo che poi è dato anche dai dati industriali, il tessuto industriale in questo trimestre è cresciuto più del 30%, facciamo bei segnali di ripresa. Chiusura della Socoterm di Adria, cosa succederà in questo sito produttivo e ai suoi lavoratori? Le chiusure non sono mai una bella notizia, io sono convinto che ci sarà la possibilità di ricollocarli, qui c'è una grande richiesta di mano d'opera, c'è una grande richiesta di competenze, è un momento difficile per i lavoratori, dobbiamo stare accanto a loro e dobbiamo dargli la speranza che comunque il tessuto industriale ha bisogno di loro. Non sono rottamati ma sono ricollocati e noi dobbiamo avere la responsabilità e la volontà di metterli in condizioni e garantirgli un futuro. Grazie. Prego.